Torniamo a parlare delle amministrative che si sono svolte, si sono tenute domenica scorsa con un gran numero di balottaggi. Ripetiamo, ieri ci siamo occupati del comune di Trigiano che è stato l'unico a evitare la seconda tornata elettorale con la elezione del sindaco. Parliamo oggi invece del comune di Noicattaro dove il Movimento 5 Stelle è arrivato al balottaggio, ricordiamo che in Puglia il Movimento 5 Stelle va al balottaggio sia a Noicattaro che nel comune di Ginosa. E abbiamo nuovamente con noi il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle di Noicattaro, Raimondo Innamorato, che per la verità vedo un po' stanco dopo questo tour de force elettorale. Però al di là della stanchezza fisica possiamo anche dire che il risultato di Noicattaro era un risultato che non era nell'aria, cioè nel senso che comunque voi non eravate proprio certi di poter andare addirittura al balottaggio come prima volta. Diciamo che è un risultato storico, non per l'esito conseguito, ma per la risposta dei cittadini. Questi hanno trasmesso questo forte senso di cambiamento e noi siamo felici di essere rappresentativi di questo segnale. Abbiamo sempre rappresentato quella parte dei cittadini stanchi, delusi, ormai distanti dalle istituzioni. Siamo felicissimi oggi di poter essere un riferimento per questi. Per cui ci prendiamo questo risultato con determinazione, anche come diceva lei prima con stanchezza, ma la determinazione non ci manca. Siamo molto concentrati sull'esito finale del balottaggio che, ricordo a tutti, sarà effettuato il 19 giugno. Il 19 giugno, quindi, è la domenica del balottaggio. Allora, diciamo che Raimondo Innamorato ha conseguito in prima battuta il 26,62% con 3.622 voti al candidato sindaco, naturalmente, contro il suo diretto principale avversario, che è quello che sarebbe in pole position, e che è Francesco Santamaria, candidato del Partito Democratico, sostenuto però da un gruppo civico composto da quattro liste, se vedo bene. No, sono cinque. Sono cinque le liste? Sì, sì. Ecco, vabbè, cinque liste. Io qui ne vedo quattro. Ad ogni modo, quello che volevo chiederle è questo. Ci sono dieci punti di distacco che significano un mille e cinquecento, un mille e quattrocento voti, circa, che la separano dal, diciamo, dal candidato da Santamaria. Ora, siete in fase di, cioè, dovete recuperare questo, diciamo, questa differenza. Che cosa pensate di fare? Cioè, perché voi non fate apparentamenti, quindi andate comunque da soli e, naturalmente, immagino invece che altre coalizioni, a noi Cattaro, stiano facendo qualcosa per l'apparentamento, a parlo in particolare, per esempio, della coalizione guidata da Rocco Pignataro. Allora, io parto dal presupposto che quello che il balottaggio, per quanto ci riguarda, è una partita che si gioca dall'inizio. Io ritengo che questo vantaggio di mille e quattrocento, mille e cinquecento voti ormai sia da archiviare, perché è una partita che, come dicevo, si ripercorre dal principio. Noi abbiamo ben in mente quello che è il risultato da conseguire. Noi rappresentiamo la speranza dei cittadini e in questi giorni saremo tra loro, andremo nelle piazze, come abbiamo sempre fatto, e siamo, come appunto lei diceva, siamo soli e siamo coerenti con quello che sin dall'inizio abbiamo comunicato, ossia non faremo apparentamenti e soprattutto non ci curiamo di quello che accadrà attorno a noi, poiché proseguiremo con il nostro programma amministrativo e quello che vogliamo comunicare. I cittadini ci hanno dato fiducia e sicuramente lo faranno anche al balottaggio. Quindi voi sperate che poi, come dire, i cittadini prendano coscienza del fatto che dovendo fare così una scelta, innanzitutto che ci vadano molti a votare, perché solitamente il turno di balottaggio è sempre disastroso in qualsiasi comune. Quello che le volevo chiedere è questo, a ben vedere, anche nelle formazioni politiche che si sono presentate a noi Cattaro, ci sono tantissime liste civiche. In sostanza i partiti sono praticamente scomparsi. Lei a cosa attribuisce questo, chiamiamolo questo fenomeno politico, che sostanzialmente va oltre i partiti, cioè cancella i partiti? Ormai la gerarchia... La gerarchia dei partiti sta per scomparire. Noi l'abbiamo sempre affermato nel Movimento 5 Stelle. Noi proviamo a far comprendere ai cittadini proprio questo concetto. Noi dobbiamo riappropriarci delle istituzioni, perché in una compagine politica il direttivo, o chi comunque prende decisioni per gli altri, oggi porta a disastri amministrativi. Lo voglio ricordare. Io sono al balottaggio con l'altro candidato di centro-sinistra, Francesco Santamaria, che rappresenta oggi il vecchio modo di far politica. Purtroppo i suoi candidati consiglieri hanno rappresentato gli ultimi due fallimenti amministrativi. E quindi oggi i cittadini sono chiamati a scegliere tra una forza nuova il Movimento 5 Stelle, che si propone con un modus operandi totalmente differente, che mette in primo piano in rilievo l'ascolto dei cittadini, il decoro urbano e il supporto alle attività produttive, e il vecchio, che purtroppo ha portato noi cattaro agli ultimi due fallimenti, come dicevo, e che purtroppo hanno, come dire... Voi cercate comunque di dare un taglio nuovo, e state dicendo ai cittadini, guardate che quelli che si presentano in quella coalizione sono quelli che hanno prodotto danni. Oggettivamente è questo. No, lo voglio sintetizzare, perché poi in definitiva è questo il punto. L'ultima domanda che ne faccio, mi pare che voi, tra l'altro, questa settimana, mi pare che è previsto un tour elettorale anche in Puglia di Maio, se non vado a rato. No, Alessandro Di Battista. Di Battista, che sarà a Noi Cattaro. Sarà con noi a Noi Cattaro alle 21.30, all'incirca, per cui noi siamo, come dire, onorati di poterlo ospitare, perché ci aveva promesso già nella prima tornata di venirci a trovare, come dire, è stata poi una sfida, abbiamo accolto questo suo segnale, lui ci aveva promesso che al balottaggio ci sarebbe stato. E comunque la presenza di Di Battista, che fa parte, diciamo, chiamiamolo del direttorio, che fa parte del direttorio. Fatemi passare questo termine. No, è assolutamente così. Ecco, del direttorio del Movimento 5 Stelle nazionale, è una presenza qualificante che cercherà comunque di convincere i cittadini noiani a votarla, insomma. No, più che convincere i cittadini noiani a votarci, diciamo che sarà in grado probabilmente di accrescere quello che è l'entusiasmo. Saremo noi a convincere i cittadini nelle piazze e tra le strade, perché comunicheremo sempre alla stessa maniera il nostro programma amministrativo, ossia come vogliamo noi Cattaro nei prossimi cinque anni. Bene, noi ringraziamo allora Raimondo Innamorato, al quale naturalmente facciamo gli auguri, qualora dovesse diventare il primo cittadino di noi Cattaro.